Buongiorno, sono Laura Antichi, vi voglio presentare Virtual Speech VR Courses Tutorial. È un'applicazione per smartphone che presuppone l'utilizzo di almeno di cardboard per poter essere visualizzata. Siamo nella situazione di virtual reality. Ora vi mostro il significato di questa applicazione. Serve per simulare in ambiente virtuale davanti ad un pubblico una presentazione di argomenti per ricevere feedback e migliorare la propria performance comunicativa. Bisogna scaricare l'applicazione sul proprio dispositivo iOS o Android o GRVR. Serve per migliorare il proprio stile di presentazione nel parlare in pubblico esercitandosi. Questi sono gli obiettivi. L'applicazione fornisce feedback sul ritmo della voce, sulle esitazioni nella comunicazione, sulla presenza di contatto visivo con il pubblico che si ha davanti. È erogata su potente piattaforma VR Unit. Quando avete scaricato l'applicazione, premete su Start per avviarla. Per quanto riguarda l'Entercode, si inserisce se lo si è ottenuto. Sarebbe molto utile averlo per sbloccare alcune funzionalità. Il codice si ottiene comunque acquistandolo e con i corsi. E comunque si entra nell'applicazione. Quindi Start e vi trovate questa interfaccia che vi chiede di selezionare il vostro VR headset. Se non avete Daydream View headset, premete su Regular Mobile headset e potete vederla col vostro Google Cardboard. Vi sono presenti sei stanze. Una si chiama Classroom, l'altra Meeting Room, un'altra Interview Preparation, un'altra Conference Room, l'altra Presentation Progress and Hours e l'altra Watch Speaking Tips. Le funzioni dell'applicazione, quelle disponibili in sala conferenze e riunioni, sono presentare. Quindi una volta che si entra nella sala conferenze o riunioni, si scarica la propria presentazione in PDF. Le slide sono navigabili con Next. Questa presentazione compare sul monitor del presentatore e sullo schermo alle spalle dello speaker per la visualizzazione del pubblico. È presente un pubblico che sembra interagire in ascolto attivo. L'altra funzione dell'applicazione è l'analisi della voce. Una volta che si termina la presentazione nella sala conferenze o riunioni, si guarda con Cardboard il bottone analizza e si attiva come inizia l'analisi della voce. Bisogna che il discorso sia almeno di un minuto. Si può ascoltare il proprio discorso con Riproduci. Si può salvare il proprio discorso e riascoltarlo più tardi. Per accedere alle registrazioni bisogna andare in Presentation, Progress e Hours e si possono memorizzare al massimo cinque discorsi. Un feedback più dettagliato è disponibile per gli utenti premium che hanno acquistato i corsi e sbloccato il codice iniziale di cui vi ho parlato. Questo feedback viene fornito solo per i discorsi in lingua inglese. Vediamo come caricare le proprie diapositive nell'ambiente virtuale. Bisogna prima trasformare una presentazione in PDF, poi trasferire i file collegando il cellulare. È consigliato invece di spedirsi la presentazione in PDF. Quando vi arriva il PDF in allegato, cliccate su Allegato e l'aprite. Tenendo premuto poi l'allegato, l'applicazione si dovrebbe collegare immediatamente con l'app e automaticamente inserirsi dentro la sala virtuale. Le competenze coinvolte sono uno spirito di iniziativa e imprenditorialità, quindi di cittadinanza, comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere, competenze europee, competenza digitale, competenza europea e imparare ed imparare competenza europea. Quando utilizzare il virtual speech? Si potrebbe utilizzare con effetti molto positivi nel momento operatorio la conclusione del lavoro e in vista della presentazione del prodotto a pari genitori e classi. Come proposta didattica si potrebbe fare questa, il docente nel momento operatorio organizza le attività didattiche dando una consegna agli studenti circa il prodotto di conoscenza da realizzare. Il lavoro sarà un compito di realtà perché finalizzato ad una presentazione che gli studenti dovranno fare agli studenti di altre classi o agli studenti della scuola e o alle giornate dell'orientamento e o alla preparazione di un video per la partecipazione ad un concorso. Il docente dirà agli studenti di testare la propria performance di presentazione davanti ad un pubblico per fare questo e per testare le loro capacità di esposizione possono simulare la presentazione con l'utilizzo dell'applicazione virtual speech. Volevo dirvi che l'applicazione permette di accedere poi a corsi di formazione a pagamento e l'iscrizione ai corsi fornisce un codice di accesso all'applicazione completa. Ora vi volevo mostrare in pratica condividendo lo smartphone l'applicazione. Ciao Laura Antichi e oggi vi voglio presentare un'applicazione davvero interessante per la realtà virtuale che si chiama Virtual Speech VR Courses. Ecco, adesso entro nell'applicazione e appunto sulla conference room che dovrebbe aprirsi. Melbourne, Australia, ONG. Questa è la mia audience, come vedete. Cioè ho un pubblico molto partecipativo e sotto sullo schermo, il mio schermo, ho caricato le mie slide su HP Reveal, perché usare HP Reveal. Ho potuto mettere le slide in questa conferencing perché le sono spedite prima per mail, poi cliccando sull'allegato di questa mail che mi ero mandata, sono riuscita a farle catturare dall'applicazione Virtual Speech. Come potete vedere, io posso andare, navigare nelle mie diapositive e andare avanti. Per esempio posso leggere HP Reveal è un'applicazione di realtà aumentata che ti consente di sovrapporre qualsiasi video o immagine sopra qualsiasi immagine che il tablet cellulare mobile scansiona con la fotocamera. Usare HP Reveal è simile all'utilizzo di un lettore di codice QR. Posso poi andare sempre in Next per procedere alla prossima slide. Il pubblico mi sta ascoltando, come vedete, e alle mie spalle ho sullo schermo gigante le mie diapositive che ho fatto scorrere. È un'applicazione questa meravigliosa che mi permette di approvare e testare la mia presentazione, la mia performance davanti a un pubblico esteso. Poi l'applicazione mi consente con Start Analyze, l'ho attivato, di analizzare la mia performance. Vedete che mi può dare un feedback, purtuttavia va bene, il problema qui è che non ho parlato abbastanza, devo aver tenuto questo discorso per almeno un minuto e poi per avere il feedback completo che l'applicazione manda dopo 24 ore dovrei averla fatta in inglese e avere un codice di entrata che non ho. Mi basta comunque questa applicazione così com'è nel free, perché didatticamente può essere molto utile. Arrivederci!